Ecco, primi esercizi per i nostri esordienti di mister Giuseppe e Gian Cristoforo, da qua c'è anche Simone Giordano e Roberto Verna. Ecco, finito il punishment Nicolò, si appresta a prendere la sua posizione, deve prendere un po' di piatto. Lì in fondo c'è un gruppo di primi calci, c'è mister Francesco Mancini, qua c'è il gruppo di mister Gabriele, c'è il gruppo di mister Gabriele, ecco mister Gabriele sta facendo vedere come si esegue l'esercizio correttamente. Stai attaccato al piede la palla, Matti, e non usciamo fuori dal campo, chi esce fuori sta sbagliando, dentro al campo Alecza, guarda quanto è picco, tu, bravo, dai Sabè, così dai ancora, è al fischio voglio vedere fermata la palla. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.